Straordinaria installazione di Land Art dal titolo Pezzi di Legami in piazza Università Catania organizzata dall'associazione Acto Sicilia, nata sulle poltrone del reparto di oncologia medica dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Oltre 150 le coperte fatte a mano dalle pazienti durante la terapia, dai loro familiari e dai volontari che hanno tapezzato il basolato della piazza per lanciare il loro messaggio di solidarietà e speranza. L'obiettivo è quello di sensibilizzare uomini e donne sull'importanza della prevenzione del tumore ovarico, sottolinea la presidente Acto Sicilia Daniela Spampinato, per prima ad aver portato i gomitori di lana in giro per mezza Sicilia da Santa Domenica Vittoria a Nicosia per incontrare studentesse, adolescenti e anziane signore, ospiti delle strutture. Dottoressa un'altra bellissima iniziativa dell'Acto che ovviamente mette ancora una volta al centro le pazienti. Assolutamente, questo è stato un modo per portare in piazza quello che è un percorso che è iniziato quasi un anno fa. Sulle poltrone della chemioterapia abbiamo messo in mano alle pazienti mentre facevano i trattamenti un gomitolo di lana e un uncinetto. Questo aveva lo scopo di distrarle da quello che stava accadendo in quel momento magari per ridurre lo stato d'ansia ed è dimostrato effettivamente qualcosa di vincente perché le pazienti si applicavano in quello che stavano facendo e non pensavano a quello che scorreva in quel momento nelle loro vene. Solo che questo progetto è andato oltre il previsto perché questi gomitoli se li sono portati a casa hanno lavorato davanti alla televisione insieme alle loro famiglie, hanno creato delle copertine ed in pieno covid in cui non era possibile scambiarsi visite, stare vicini fisicamente, le amiche, le persone di famiglia o anche semplicemente persone che volevano dire sono con te hanno fatto una copertina anziché fare una visita e quindi le copertine sono diventate oltre 150, ci hanno lavorato intere comunità, dalle poltrone della chemioterapia alle famiglie alla comunità e la comunità torna in piazza oggi con lo scopo non soltanto di mostrare questo meraviglioso esempio di solidarietà ma anche soprattutto per accendere riflettori ancora una volta sul tumore ovarico, un tumore che ancora oggi nonostante sia un tumore raro, 500 donne in Sicilia ogni anno, miete molte vittime perché purtroppo viene scoperto sempre in fase molto avanzata, non ci sono screening specifici, non ci sono possibilità di poter effettuare degli esami particolari e cadenzati come per esempio per la mammografia, per il tumore della mammella e allora è importante fare una visita ginecologica annuale, un'ecografia transvaginale annuale, l'idea è proprio questa che passando per piazza università magari tutte le signore che è da tempo che non si controllano, magari domani vanno a fare quella visita ginecologica che può salvarli alla vita. Vogliamo spiegare che cos'è l'Acto e perché nasce? Acto Sicilia è un'associazione di pazienti medici e familiari e nasce proprio con l'obiettivo di supportare le pazienti dal momento in cui viene diagnosticata questa brutta malattia nel corso poi del loro percorso fino appunto a far sì che questo supporto venga anche allargato non solo ai familiari ma anche a tutte le persone che sono vicine alle pazienti. È un'idea che nasce proprio nella sala d'attesa del reparto di oncologia del Cannizzaro, ne parlevamo insieme alla presidente Daniela Spampinato e così questa condivisione di quest'idea anche da parte dei medici che hanno accolto questa richiesta di creare questa associazione proprio perché sentivamo il bisogno noi pazienti di confrontarci e sentirci vicini durante anche le nostre terapie all'interno del reparto. Sono nati proprio all'interno del reparto progetti come quello di oggi, come il progetto che si basa sulla lana terapia che ha fatto sì che le pazienti potessero riunirsi confrontandosi anche nelle loro storie e dandosi quel conforto, quel supporto anche psicologico di cui avevano bisogno. Quindi Acto Sicilia è questa, è una rete, una grande famiglia fatta di pazienti medici e familiari e credo che questo progetto lo rappresenti al pieno con questa grande rete e questa grande trama di manufatti che oggi allestiscono questa piazza. Miriam, ma tu sei una delle tante volontarie Acto che sulla tua pelle hai vissuto e vivi ovviamente la patologia tumorale. Quanto è importante la prevenzione? La prevenzione è tanto importante che se io non avessi fatto un controllo di quelli diciamo di routine non sarei qua adesso perché non avevo nessun sintomo, nessun sentore di quello che stava succedendo dentro il mio corpo e mi è stato diagnosticato un tumore ovarico e oggi sono qua per questo. Ecco, tu non avevi nessuna sintomatologia, quindi hai fatto lo screening ovviamente necessario come è giusto che si faccia e da là ti sei, ti è stato diagnosticato appunto un tumore e da là poi ovviamente tutto l'iter che ti ha portato anche alla scelta di metterti in campo con l'Acto. Sì, Acto l'ho conosciuta quasi subito, ho cercato appena mi hanno detto questo nome che io non avevo mai sentito tumore ovarico, ho cercato su internet, ho trovato subito associazione e ho chiamato al numero di telefono come ha risposto Daniela, la nostra cara presidente, che mi ha dato tanta forza e tanto coraggio da lì ho detto mi devo iscrivere a questa associazione, per me è stata importante perché è proprio un'alleanza, un'alleanza che mi ha aiutato e che mi continua ad aiutare. Miriam, per chiudere cosa ti senti di dire a tutte le donne che ci seguono, che magari non hanno sintomatologia come te, che però hanno necessità comunque il dovere per se stesse di fare esami? Dovete fare controlli, è un dovere perché alcuni che io ho incontrato mi hanno detto mamma io non lo faccio perché ho paura, no, perché soltanto facendo il controllo si può sconviggere questa malattia o comunque si può lottare contro, ecco.